Ciao ragazzi, come promesso vado a concludere questo trittico di video con il programma Revolution, il programma che sto utilizzando per prepararmi all'asta, il programma che vi sto consigliando, il programma che userò all'asta, il programma che userò per tutte e 38 le giornate per fare i cantaconsigli, il programma che tutti voi dovreste aver scaricato, il programma che vi spiegherà chi se non Marco di AstaFantacalcio.net, il creatore di tutto questo ben di Dio. Allora, vado a cambiarmi la maglietta perché sono sudato come, non so, una zampogna e poi Marco vi spiegherà tutto quanto c'è da spiegare. Marco, sei collegato? Eccoci Marco, finalmente, finalmente. Ciao, allora, come ho detto nei miei video di oggi, un modo sicuro di andare all'asta, sicuramente preparato al 100% è quello di usare il tuo programma Revolution. Vuoi spiegarci bene in cosa consiste? Allora, non so se già vedi la schermata del file, siamo qui pronti per il log, quindi andrà inserita la mail con cui abbiamo effettuato la registrazione, inserita la mail passiamo sulla schermata istruzioni dove sono indicate passo passo tutte le cose da fare, oppure volendo c'è anche il video tutorial caricato sul nostro canale di YouTube, accessibile tramite questo pulsante qua. Il programmino è strutturato nella sezione rosa, griglia portieri, lista giocatori, stagione precedente e monitoraggio. Andiamo subito a fare una breve carrellata. La sezione rosa è la sezione dove andremo a settare la nostra lega e dove sarà praticamente possibile gestire la nostra rosa. Poi c'è la griglia portieri dove saranno possibili vedere tutti gli abbinamenti, la griglia dei portieri e l'analisi della rosa delle squadre. Poi abbiamo la sezione lista giocatori dove sarà possibile pianificare tutto il preasta. Abbiamo la stagione precedente dove sarà possibile caricare le statistiche o gli storici delle statistiche delle stagioni precedenti. E poi c'è la sezione monitoraggio dove sarà possibile visualizzare tutti i crediti delle fantasquadre e le relative rose. Andiamo subito dunque a importare la lista dei giocatori per la prima volta, poi sarà possibile anche aggiornarla se chiaramente poi magari il listone cambia tramite la lista giocatori. Qui abbiamo il tasto aggiornare la lista giocatori più appunti se si vuole caricare il file, quello che proponiamo noi con già degli appunti, oppure semplicemente la lista dei giocatori che è scaricabile da fantacalcio.it. Torniamo quindi sulla sezione rosa, carichiamo la lista per la prima volta e ora andrò a caricare già la lista, quella che proponiamo noi, quindi aggiornata alla data odierna. Quotazioni importate, ora il programmino analizzerà tutte le rose, tutto il listone e poi andremo a vedere che cosa succede. Dati analizzati, ora farà il calcolo degli abbinamenti dei portieri e ok. A questo punto andiamo a mettere i dati della nostra lega, quindi mettiamo lega serie A, la mia squadra, metto il mio nome, portafoglio iniziale mettiamo ad esempio mille crediti, andiamo a settare la composizione delle rose, ora mettiamo un classico 3886, andiamo ad inserire il numero delle squadre partecipanti, mettiamo ad esempio 10, una lega 10 e il modulo preferito di gioco. Questi dati sono molto importanti da inserire perché comunque tramite questi parametri qua il programmino vedete che per ogni slot praticamente ha già contato le fasce dei giocatori e quante fasce praticamente disponibili possiamo acquistare. Per esempio difensori possiamo acquistare sicuramente un semi top, vedete qua c'è la lista dei giocatori, quindi top, semi top, buoni, ultimi slot e rimpiazzi, quindi per ogni slot siamo certi che potremmo acquistare almeno un portiere buono, un difensore semi top, un centrocampista, due centrocampisti semi top, un attaccante top e così via. Quindi abbiamo, vedi adesso ti faccio un esempio, se magari la nostra lega fosse a 8 vedete come cambiano le colorazioni degli slot, quindi anche questa è una cosa molto importante. A questo punto andiamo a impostare i nomi crediti degli avversari, ora per velocizzare il tutto non inserisco i nomi, però comunque sia qui su questa sezione qua si possono inserire i nomi degli avversari e i relativi crediti, in quanto se si fa un fantacalcio manageriale possiamo andare a personalizzare i crediti. Qui abbiamo la finestrella dove si ha il controllo dei slot, quindi mano a mano che l'asta sarà in corso possiamo vedere sempre quanti giocatori le fantasquadre devono acquistare. E andando su questo tasto qua abbiamo la sezione appunto di tutte quante le rose dove sarà possibile anche duplicare la finestra, ok? Quindi se colleghiamo il pc a un monitor esterno non andremo a fare altro che duplicare questa finestra, la spostiamo sul secondo schermo, poi facciamo full screen e premiamo il tasto adatta dove appunto qui visualizzeremo tutte le rose, il nome dell'asta del giocatore che si sta facendo e il timer anche, quindi anche questa è una comodità in più per chi è admin di Lega. Ok, poi quindi torniamo un secondo nella lista giocatori, andiamo a pianificare la nostra asta, quindi partiamo innanzitutto dai portieri, quindi qui possiamo come vedi puoi filtrare tutti i giocatori, quindi possiamo filtrare per tutti, portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti, anche trequartisti se uno gioca con i trequartisti. Per fare questo dovremo apportare delle modifiche alle quotazioni, per questa cosa c'è un video dedicato sempre sul nostro canale, quindi è possibile anche settare i trequartisti. Partendo dai portieri possiamo ordinare appunto i portieri per nome e per colore, quindi per fasce. Vedi che il programmino ha già, diciamo, settato tutti quanti i giocatori fascia per fascia, quindi per il programma Andanovic, Magnan e Scesni sono dei top player, Meret, Mussi e Rui Patricio sono semi top e così via. A questo punto, poi qui ci sono tutto, è lo spazio dedicato alle statistiche, andiamo a caricare, visto che è già passata la prima giornata, le statistiche che sono sempre scaricabili da fantacalce.it. Ora io ho già scaricato il file, quindi non faccio altro che caricare le statistiche aggiornate alla prima giornata. Vedi che poi le statistiche sono ordinabili per tutti quanti i dati, ok? Quindi abbiamo tutti i dati sotto mano. Altra cosa, sempre ai fini della pianificazione dell'asta, se uno vuole fare uno studio sulla stagione precedente, non bisogna fare altro che andare su stagione precedente, caricare le statistiche dell'anno precedente o comunque dello storico statistiche che proponiamo anche questo sul nostro sito, abbiamo sommato tutte le statistiche giocatore per giocatore dagli ultimi due fino agli ultimi cinque anni. Quindi anche questa è una cosa che al fine dello studio si può fare. Quindi andiamo a selezionare i file delle statistiche, io anche questo file l'ho già scaricato in precedenza, quindi ha caricato le statistiche e in questa sezione in alta a sinistra possiamo vedere la top 11, ok? Quindi in base al modulo preferito di gioco il programmino ti indicherà la top 11 per il modulo preferito di gioco. Quindi in base al modulo che scegli il programmino ti dice chi sono stati i migliori 11. Tornando quindi sulla lista giocatori, quindi alla fase pre-asta, andiamo quindi a settare che cosa? I nostri obiettivi. Diciamo che quindi portieri, colore, voglio... Allora, intanto ti dico, se uno non è chiaramente di comune accordo con quello che ha fatto il programmino possiamo anche cambiare, diciamo, la fascia al giocatore. Ad esempio Rui Patricio, che per il programmino è un semi-top, per noi è un top, allora non bisogna fare altro che mettere il codice 1 sulla relativa colonna Egitti che sta per indice di gradimento personale. Tanto tutte quante le cose sono spiegate anche, come vedi, sulle finestrelle che si aprono, mano a mano che uno passa con il mouse sopra. Quindi è tutto, penso, ben chiaro. Comunque sia poi ci sono anche i tutorial, quindi è comunque tutto molto chiaro. Hai anche questa finestrella qua dove è possibile appunto vedere tutti i nomi, delle cose. Detto questo, diciamo che Rui Patricio comunque è un top, ma è anche un nostro obiettivo, allora non faccio altro che aggiungere all'1 anche la X che sta per obiettivo. E vedi che Rui Patricio diventerà in grassetto e sottolineato con una trama sullo sfondo. Mettiamo anche che uno dei nostri obiettivi è, se non prendiamo Rui Patricio magari è Magnan, allora confermiamo la fascia top e mettiamo una X, così abbiamo già due portieri come nostri obiettivi. Cliccando su questo tasto qua avremo sempre gli obiettivi in cima alla lista dei desideri. Ok? Poi qui ci sono tutti gli altri dati, quotazioni attuali quelle che appunto sono di fantacalcio.it, l'andamento quindi se la quotazione attuale è minore, uguale oppure maggiore a quella della quotazione iniziale che era appunto prima della prima giornata e questa è la fascia consigliata dei, scusa, è la fascia dei prezzi consigliata massima, quindi è la fascia appunto il range di prezzo che noi consigliamo per acquistare quel tipo di giocatore. Questo chiaramente nel corso degli anni con tutte le varie statistiche, no? Delle varie asche fatte abbiamo visto che più o meno il giocatore X che ha una quotazione tot va da una fascia di prezzo a un'altra fascia di prezzo e quindi si ha anche questo indicatore in più molto comodo. A questo punto se si è anche appunto come dicevo poc'anzi presidenti di Lega possiamo andare durante proprio la fase dell'asta stessa a fare le estrazioni delle lettere senza fare bigliettini e robe strane come si faceva una volta, possiamo andare ad estrarre le lettere magari facciamo un'asta per i portieri, quindi andiamo ad estrarre la lettera qui, il programmino estrae la lettera i e cliccando su ok non c'è nessun portiere che inizia per i è uscita la M quindi Magnan è il primo portiere. Facciamo l'asta per Magnan, ok? Questo per l'asta ha in ordine alfabetico questo qua? Questo per l'asta sì, però partendo da una lettera che diciamo è stata, quindi se parte dalla M poi si fa dalla M in giù, quindi questi sono già tutti in ordine per nome e poi si ricomincerà da là. Se invece vogliamo fare estrazione a random giocatore, quindi possiamo scegliere se impostare i ruoli portieri, quindi farà solamente il random dei giocatori dei portieri o poi difensore, centrocampista attaccante oppure inglobarli proprio tutti quanti dentro il random, no? Perché c'è anche chi fa questa modalità di asta, quindi facciamo un esempio con tutti, avvio random giocatore, è stato estratto il giocatore Barrov, quindi ci posizioniamo sul giocatore Barrov e faremo l'asta per Barrov, quindi facciamo un altro esempio, passa da Barrov a Ammione e quindi da un attaccante ha passato a un difensore, vedi come è molto semplice e rapida la cosa. Possiamo anche settare il timer asta, mettiamo 5 secondi, no? Se magari questo chiaramente il timer si imposta qua ma poi verrà anche visualizzato da tutti quanti gli altri duplicando quello schermo come ti dicevo prima, quindi si eviteranno tutte quelle cose che chiami tipo Vlaovic, no? Stai un'ora e mezzo a fare 1, 2, 3, 4, 5 e poi quando arrivi a 150 tutti zitti perché, no? Nessuno sa se fare 151 oppure è e quindi allora in questo modo uno fa partire il timer quindi tutti sanno che hai 5, 4, 3, 2, 1 secondi fino al tempo scaduto. No, aspetta, 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 così chiaramente hai sempre il timer sotto mano e chiaramente se uno poi diciamo dice 151 basta che ci riclicchi sopra e vedi che il conteggio riparte da 5 quindi è tutto molto semplice, ok? Quindi anche il timer asta è un altro piccolo strumento ma comunque è utile per la gestione da parte dell'admin. Benissimo, allora torniamo quindi all'asta dei portieri, facciamo solamente un esempio con i portieri quindi era stato chiamato Magnan quindi doppio clic sul giocatore, vedi che quando clicchi sul nome ti compare questa finestra utilissima dove andrai a impostare il nome della squadra, ok? Che si acquisterà Magnan e qui andrà inserito il relativo costo. Abbiamo la situazione delle squadre sempre sotto mano con quindi tutti i crediti che sono residui, la spesa massima che quindi l'offerta massima che quella fanta squadra può fare e il numero dei portieri in questo caso da acquistare. Qui abbiamo tutte le informazioni del giocatore quindi diciamo il ruolo, se gioca, se qui non ho inserito ancora degli appunti, basta magari te lo faccio vedere subito al volo, scrivo molto forte, così adesso per scrivere una cavolata, faccio il doppio clic e vedi che sui appunti compare appunto quello che tu avevi preimpostato in precedenza. Obiettivo sì è un nostro obiettivo perché appunto l'avevamo settato come nostro obiettivo, quotazioni, andamento eccetera eccetera. Statistiche quindi quelle che abbiamo caricato della stagione corrente e qui a destra abbiamo la finestra del ripeto gli obiettivi quindi sappiamo che vogliamo prendere i portieri o Magnan o Rui Patricio. Qui ti fa la lista addirittura sia per ruolo che per fascia perché ti faccio un esempio al volo se anche avevo messo Audero in questo caso come obiettivo metto quindi 3x conferma la fascia gialla vedi che facendo il doppio clic su Magnan non compare Audero perché comunque Audero non è un top ok quindi per me i portieri top sono questi due quindi se voglio prendere uno di questi due so che devo prendere o Magnan o Rui Patricio. Ok quindi facciamo appunto che Magnan magari l'hai acquistato te quindi squadra avversaria 1 al costo di magari 90 crediti confermiamo il giocatore scomparirà dalla lista ok e andrà a finire direttamente andiamo nel monitoraggio vedi che la squadra avversaria 1 ha rimasto da prendere i due portieri andando sulle rosse e vedi che Magnan è nata a finire dentro la tua rosa quindi torniamo dunque ancora sulla lista giocatori e io quindi mi andrò a prendere Rui Patricio quindi seleziono la mia squadra metto che lo pago tanti il programmino una volta che acquisteremo un giocatore noi andrà a finire direttamente sulla sezione della nostra rosa dove in questa finestra vedremo sempre la spesa consigliata quindi mano a mano che l'astra andrà avanti il programmino ci consiglierà sempre la spesa consigliata questo su che base sulla base della spesa preventiva che avevamo impostato in fase preasta perché noi se possiamo se vogliamo qui chiaramente il programmino in funzione al modulo preferito di gioco ti carica già una distribuzione dei slot preimpostata che può però poi chiaramente questo sempre prima dell'inizio dell'asta una volta che comincia l'asta poi i dati sono questi quindi non si possono più variare perché chiaramente sulla base di questi dati poi il programma ti ricalcola sempre la spesa consigliata comunque la spesa preventiva prima che comincia l'asta la puoi chiaramente settare a piacimento e una volta che l'hai cambiata come ti pare la puoi anche salvare in modo da poterla caricare magari per una futura astra quindi hai anche questa funzione qua molto comoda ma ad acquistare altra cosa fondamentale andranno a finire dentro al primo slot libero quindi vedi che rui patricio è andato a finire sul primo rigo disponibile tramite queste frecce qua comunque le cose sono tutte molto immediate vedi che le possiamo spostare in base all'ordine di importanza in questo caso rui patricio per noi sarà il portiere titolare quindi è giusto che sia sul primo rigo se non fosse stato il primo portiere titolare magari lo spostavamo sul terzo panchina re vedi che come come ti dicevo prima il programma ricalcola sempre la spesa consigliata per tutti gli altri slot ok quindi tutto molto immediato allora poi una cosa che non vi ho detto prima perché nella fretta mi è sfuggita sezione gria portieri una volta che abbiamo caricato la lista dei giocatori andando sulla gria dei portieri il programmino ci fa degli abbinamenti ok ci già in base al calendario perché dentro il programmino c'è già caricato il tutto il calendario di serie a in base al potenziale difensivo delle squadre il programmino ti calcola già degli abbinamenti quelli più giusti secondo lui quindi ora vedi che già qui trovi delle celle verdi e delle celle annerite questo perché perché rui patricio l'ho acquistato io quindi la cella che qui prima era gialla ora è diventata verde perché rui patricio l'ho acquistato io e quindi ho subito sott'occhio la mia squadra che ho comprato e quindi in base a quella squadra che ho comprato posso fare gli abbinamenti più giusti vedi questo chiaramente sono abbinamenti costo alto questi rosso abbinamenti costi medi abbinamenti costi bassi e poi qui ci sono il resto delle squadre che non sono state diciamo abbinate cioè quelle diciamo scarse quindi una volta che uno acquisterà comunque un portiere di di una squadra questo scomparirà dalla lista scomparirà dalla lista scusa verrà annerita dalla lista se verrà acquistata da una squadra avversaria invece sarà verde se verrà acquistata da noi in questo caso perché io avevo acquistato magnan magnan qui c'era patricio esatto bravo qui ora è già in ero ma comunque qui prima c'era il milan con tutti i tre abbinamenti consigliati con il milan ok qui comunque possiamo anche personalizzare gli abbinamenti quindi se ora ti faccio vedere carico il milan anzi lo carico qua su quello blu tanto per fare un esempio vedi come carico il milan comunque diventa nero perché il programmino capisce già che il milan è stato acquistato da una squadra avversaria ok quindi anche qui possiamo personalizzare gli abbinamenti questa è la solita greia portieri che propone anche fantacalcio punto il programmino la comunque genera in automatico al momento del caricamento sempre del listone perché incrocia il listone delle squadre con il calendario che è già preimpostato mentre in questa parte qua in bassa destra c'è l'analisi della rossa delle squadre sempre dopo aver caricato il listone praticamente fa una serie di calcoli e ci dice quindi squadra per squadra il reparto come come sono messi no se sono alti medi bassi insomma sia questo sempre al fine di uno studio preasta quindi tu hai sempre diciamo dei dati sotto mano per cercare di insomma di vedere una squadra dove diciamo messa meglio e dove è messa peggio quindi niente poi altra cosa che ti devo dire vabbè qui si possono cancellare le colorazioni degli appunti no chiaramente questo è tutto personalizzabile se uno va sugli attaccanti vedi che ho caricato già la lista dei nostri consigli quindi qui ci sono già alcune informazioni quindi se tira i penalty insomma noi se tira i piazzati in ordine di gerarchia si è infortunato insomma tutta una serie di dati già preimpostati se uno fa l'asta comunque in ordine alfabetico e un giocatore non verrà acquistato da nessuno ora ad esempio facciamo un esempio al volo prendiamo barro il giocatore è stato estratto ma non viene acquistato da nessuno possiamo nascondere quel giocatore così che si potrà sempre vedere la lista dei giocatori svincolati se ci siamo sbagliati a prendere non è un problema possiamo annullare sempre l'ultima chiamata barro ricomparirà nella lista e se arrivati alla fine di tutto il giro io ancora devo acquistare un attaccante perché non ero contento di quelli che erano usciti prima ma poi ci ritroviamo alla fine che ancora dobbiamo acquistare degli giocatori basta premere il tasto secondo giro e dal listone ricompariranno tutti i giocatori che precedentemente erano stati chiamati ma non acquistati vedi che sono diciamo segnalati con questo rosso qua sulla colonna del id quindi anche qui abbiamo sempre tutto quanto sotto mano io che dire l'ho quindi qui senza simulare un'asta completa passerei direttamente alla fase finale dell'asta quindi andiamo al monitoraggio ok quindi qui avremo chiaramente tutte le rose complete e poi alla fine se facciamo il completamento delle rose questa cosa che vi dirò ora la farà già in automatico il programmino altrimenti se uno tipo no che finisce la sua rosa e poi magari deve andare via e poi vuole terminare e completare le rose il giorno dopo non c'è nessun problema abbiamo pensato anche a questo puoi tranquillamente fare termina asta il programmino che cosa farà genererà un nuovo file excel con il già il nome della tua lega ok dove quindi potrai gestire quella specifica lega quindi salverà in automatico il file e a quel punto rifarà il reset completo del programmino chiaramente non cancellerà i dati dei giocatori ora il file si è chiuso perché chiaramente ti dà la possibilità di riaprire subito quello che hai generato in quest'istante col file della tua lega ora ti richiederà sempre di loggarti bisogna inserire sempre la mail aprendo il file quindi abbiamo la nostra lega quindi che avevamo generato e a questo punto possiamo esportare i file delle rose o in pdf se nell'immediato vogliamo condividere le rose con gli avversari ora se lo clicco mi dice che devono essere completate tutte le rose ancora e quindi non te lo fa fare quindi una volta completate tutte quante le rose ti farà fare sia l'esportazione pdf o figata pazzesca te lo fa esportare nel file csv che è il file dati di che poi poi potrà essere importato direttamente sulla piattaforma leghe fantacalcio quindi si eviterà quello sbattimento che l'admin di lega tra una bestemmia e l'altra dovrà arrivare fino alle 9 del giorno dopo per caricare nome per nome tutti i giocatori nome a mano la spesa che poi spesso capita anche che per stanchezza oppure per fretta uno scrive tipo blauvic comprato a 150 quando invece era comprato a 148 sappiamo quanto siano importanti anche due due soli crediti no che magari ti possono permettere di comprare un 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 top no credito a disposizione quindi sono fondamentale quindi abbiamo pensato anche a questa cosa qua detto ciò ora praticamente il file revolution quindi si è chiuso quindi perché questo è il file della lega serie a il file revolution si è chiuso e quando lo andrai a riaprire in sostanza adesso se vuoi te lo faccio vedere al volo velocemente riapriamo il revolution bisogna rifare sempre il solito log che mettiamo sempre log facciamo così vedi che praticamente qui siamo pronti per impostare una nuova lega con il numero di partecipanti eccetera eccetera portiere difensori centrocampisti attaccanti ma nella lista dei giocatori invece sarà stata sarà ripristinata da zero quindi sempre con gli obiettivi avevamo prefissato no la prima volta quindi siamo già pronti con il file dati proprio per affrontare una nuova spettacolo quindi proprio in pochissimi clic siamo pronti per per una nuova asta quindi qui c'è la cella per la ricerca del giocatore se non vogliamo scorrere comunque insomma la lista ma è facile anche metterla comunque sempre in ordine alfabetico e poi scorrere giù quindi se no ecco c'è qui la sezione dedicata per la ricerca del giocatore ti cerco Fazio te lo stavo per chiedere l'altra volta mi avevi chiesto di Fazio allora scrivo Fazio e clicco su ricerca giocatore e vedi che il programmino evidenzia il giocatore Fazio ti ci va proprio sopra ancora in ultimo slot sta guarda Fazio è ancora in ultimo slot sì perché Fazio comunque dai però guarda visto che ti piace così tanto te lo metto guarda non te lo metto top perché è davvero troppo te lo metto top dai 2x e te lo metto anche con l'obiettivo vai ma contento obiettivi eccolo qua Fazio in cima alla lista dei difensori grazie io penso di averti detto tutto guarda quindi Marco qui c'è chiaramente per scaricare i file l'altra cosa che ultima cosa che non ho detto prima senza andare sul browser puoi scrivere fantacalci.it andare su in barabamba basta basta semplicemente cliccare su questo tasto qua e il vedi no eh ti piazza eh subito la la pagina pronta per eh scaricare le quotazioni o le statistiche quindi proprio abbiamo cercato di fare eh minore perdita di tempo possibile sia per il preasta che per eh proprio la fase dell'asta stessa che spettacolo Marco veramente io ragazzi lo sto già utilizzando per prepararmi a tutte le mie varie aste che partiranno dal 29 e il programma è assolutamente completo assolutamente funzionale semplice da utilizzare scaricabile appunto dal sito asta fantacalcio punto net e Marco cosa dire guarda non non voglio spoilerare nulla ma per i già per il prossimo anno stiamo lavorando forte e ci saranno grossissime grossissime novità quindi già proprio ancora non siamo partiti con con questo anno che già stiamo eh lavorando forte per il prossimo ottimo ottimo perfetto veramente ragazzi uno strumento necessario per prepararsi all'asta e per affrontare l'asta nella maniera migliore possibile Marco ti ringrazio un saluto a te e a tutti quanti i tuoi collaboratori a savantacalcio.net e ultima domanda dacci tre nomi al volo per quest'anno guarda mi cogli impreparato però eh anzi no aspetta questa la dai perché mo me li so scritti non la taglierò mai no scherzo allora guarda eh difensori centrocampisti oppure dimmi te ma stupiscici vai guarda io eh tendo sempre a eh focalizzarmi su centrocampisti eh a pochi slot eh che però eh giocano sulla linea tre dei attaccanti tipo tipo lo scorso anno ho comprato Aramo a quattro crediti su quattrocentocinquanta no quindi pochissimo e comunque Aramo salvo un periodo insomma un po' buio se no ha fatto un grandissimo campionato quindi è stato uno è stata una delle veramente delle sorprese e quindi centrocampista che comunque giocava sulla linea dei tre di del Venezia quindi per per quest'anno ti dico strefezza mi piacciono sia strefezza che di Francesco tutti i due comunque della stessa squadra quindi chiaramente prendere uno o l'altro perché se no eh facciamo facciamo no eh i blocchi delle squadre e questo non va bene non va mai bene ti dico anche un frattese anche se non gioca comunque in questo caso sulla linea degli attaccanti ma secondo me è un giovane che veramente eh prima o poi farà una esplosione incredibile concordo e sulla linea degli attaccanti sempre chiaramente nomi non blasonatissimi ti dico un Lammers ti dico un Desserts e ti dico anche che Pinamonti ora che ha preso il posto no eh comunque discamacca quest'anno potrebbe veramente fare l'anno buono un nome dietro che sicuramente eh quest'anno eh quest'anno si pagherà eh non pochissimo ma comunque nemmeno ai ai livelli di Teo, Skriniar e company è un Calulu è un Calulu che secondo me eh quest'anno farà sicuramente moltissime partite perché comunque eh ormai eh è lui diciamo no il insomma quello che ha preso il posto di di Kier e quindi sicuramente farà un grandissimo campionato secondo me d'accordo d'accordo d'accordo. Marco grazie mille per questa tua partecipazione e ci sentiamo ovviamente nei prossimi giorni perché poi parleremo anche del programma regola del 72 che sarà il programma che utilizzeremo per tutte le 35 giornate dalla quarta in poi. 35 esatto. Potrà essere utilizzato dalla quarta giornata in poi. Esatto. Chiaramente servono le le tutte le diciamo i file dei dei voti delle quattro giornate delle prime quattro giornate e quindi dalla quinta giornata in poi dalla quarta a quinta giornata in poi si potrà usare la regola del 72. Esatto e con quella arriverò all'80% di ballottaggi vinti come ho promesso. Me lo auguro. 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 Grazie ancora Marco. Un saluto. Grazie. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ragazzi che dire avete visto le potenzialità di questo programma e acquistatelo perché veramente ad un prezzo irrisorio potrete avere più possibilità di fare una bella asta e più possibilità di vincere il fantacalcio per bacco e niente non è. Ragazzi ci vediamo sabato che non so se sarà oggi o domani perché dipende da quando caricherò questo video. Comunque sabato ore 17 per la canta live del pre partita prima della seconda giornata. Un saluto dal canale YouTube più figo di YouTube Italia. Ci vediamo ragazzi. Ciao.